Lo studio per me è uno spazio dove io mi isolo, nel senso che mi serve uno spazio che sia lontano dalla mia vita quotidiana, dalla casa o magari da altre esperienze familiari, dove io vado e rimango solo con le idee e quindi mi concentro su quelle, mi concentro sulla mia ricerca e tendo a tenere lo studio più vuoto possibile e questo per me è molto importante. Io quando finisco qualche lavoro per una mostra e torno da una mostra lo metto subito in magazzino, non lo tengo appeso, non lo tengo esposto perché mi crea abbastanza ansia essere in studio e vivere lo studio con lavori già finiti, perché vedo lo studio come un posto dove i lavori devono sempre nascere nuovi e quindi questo mi sprona molto. Diciamo che le cose sono partite già durante Goldsmith, non ho mai perso i contatti con l'Italia e anzi devo dire che la scelta di andare a studiare all'estero era comunque indirizzata al fatto che poi avrei voluto tornare insomma in Italia, quello assolutamente. Quindi ho mantenuto i contatti, c'era questo progetto importante della mostra inquadrinale, invitato da Domenico Quaranta e quindi insomma lasciare Londra non è stato così traumatico perché mi sono ripresentato in Italia dove tra l'altro non avevo praticamente fatto mostre rilevanti prima di andare a Londra perché avevo appena iniziato a lavorare come artista e quindi presentarsi a Roma in quel contesto ha sicuramente aiutato dal punto di vista della ricezione del mio lavoro da parte del pubblico e della critica in generale, se vuoi chiamarla così. Sono una serie di sculture a muro dove ho cercato di rappresentare in senso scultorio delle frasi che si riferiscono a certi sentimenti molto popolari in alcune zone di internet che frequentavo e che ancora frequento, che sono alcuni specifici social network in particolare. Mi interessava scoprire il perché fosse così prominente il fatto di appellarsi a questi sentimenti molto generici che facevano riferimento a un distaccamento tra l'esperienza mentale e l'esperienza fisica che si aveva del social network. Per esempio molte frasi sottolineano il fatto di non essere in contatto con i propri sentimenti oppure di avere abbandonato la sfera emozionale ed averla quasi dimenticata. Mi piaceva poi tramutarla in lavori scultori che nella loro trasformazione diventavano quasi trasparenti. Penso che questa trasparenza possa anche ricalcare questo distaccamento o questo affievolirsi di un contatto tra il lato emozionale e che diventa forse più mentale dal lato fisico. Insomma mi immaginavo queste persone come poi lo ero anch'io in realtà da sole davanti a un computer su una scrivania che parlavano di sentimenti o di contatto fisico rimanendo però sole, solitarie, forse anche un po' alienate, però molto concentrate mentalmente all'essere presenti online parlando di queste cose e forse era un bilanciamento, un bilanciamento mentale di una solitudine fisica che stava avvenendo. La ricerca su internet nasce da un'esperienza personale e credo sia molto comune per i ragazzi la mia generazione riconoscessi in questa esperienza. Trovarsi sui social network e vedere delle immagini, dei meme che insomma sottolineino questa cosa, il fatto che ci sia questo distacco tra esperienza fisica e mentale, tutti molto iperattivi e molto attenti online, tutti poi molto alienati e solitari fisicamente. Vorrei che poi il mio lavoro potesse essere un collegamento, un ponte tra l'esperienza comune del pubblico e ricordandogli magari che questi temi insomma esistono, ci sono e forse è giusto anche approfondirli. Mi nutro essenzialmente di ricerca, di ricerca mia personale, di temi che mi interessano e dipendono totalmente dalla sfera, se voglio, alla sociale, cioè di come io leggo la società contemporanea nella quale io sono inserito, vedo che ci sono, insomma, constato che ci sono dei temi rilevanti oppure che hanno più rilevanza nella mia vita personale e quindi prendo quella strada di ricerca e poi cerco di tradurli in arte perché credo che sia necessario porre l'attenzione su determinati argomenti. Tutto questo che ho detto ovviamente passa attraverso il filtro della mia esperienza personale di persone, insomma, si nutre principalmente di esperienze immediate via internet perché tutta la ricerca, molta parte della ricerca deriva da lì, ho anche dei libri che poi finisco a leggere e sono comunque trovati attraverso collegamenti che io ho con altre persone che però coltivo online. Insomma, se qualcuno accorre la propria comunità e credo che una certa responsabilità ci sia da prenderla, no? Nel piccolo di un artista credo magari attraverso il suo lavoro, la sua ricerca, anche intellettuale, filosofica, possa mettere l'attenzione su magari dei temi meno trattati o che magari rimangono in sordina per vari motivi e ricordarli al pubblico, alle persone. Quello che mi piace fare attraverso la mia ricerca è ricordare alle persone qualche cosa di cui magari io sento parlare meno e che credo però sia importante come molti altri argomenti. Non far dimenticare alle persone di continuare a porsi le domande e non dare le cose per scontate, insomma, no? Credo sia buonsenso questo. E soprattutto per gli artisti che magari si ritagliano più tempo per la ricerca e magari cercano anche di sottrarsi forse dal caos o dalla routine e magari passare più tempo da soli nei propri studi, lavorando, facendo ricerche, insomma. Credo sia anche un buon modo per andare più a fondo, magari studiare argomenti più precisamente e quindi essere un po' più padroni di certi argomenti e riuscire a tradurli in oggetti o esperienze che, insomma, possono aiutare le persone a ritornare su quegli argomenti, non perderli di vista. È come se fosse un rimando continuo, no? Oggi ti ricordo questo, poi pian piano te lo dimentichi, io ritorno e te lo ricordo, no? Te lo ricordo di nuovo. Così magari facciamo un percorso insieme e con lo scambio che si viene a creare tra artista e il suo pubblico o chi sta attento a quegli determinati argomenti, anche se non è specificamente nel campo artistico, si viene a creare un confronto che quindi cresce insieme e credo sia proprio data da questa relazione, insomma, che poi si possa andare da qualche parte. Allora, cosa leggo? Leggo tantissimo le didascalie dei post di Instagram dei miei amici. Quello lo leggo tantissimo. No, no, la risposta è un po' provocatoria, però, insomma, vorrei anche, insomma, così banalmente riflettere su cosa davvero finisco inconsciamente a leggere quotidianamente molto di più di altre cose. Se voi vogliamo parlare di libri, leggo principalmente libri, insomma, di ricerca, taglio sociale antropologico, insomma, che è quello che mi interessa di capire e indagare nella mia ricerca. Altre cose? Più che leggere, vedo molti video su YouTube di ricercatori indipendenti e credo quello sia un bellissimo slancio per le ricerche contemporanee. Insomma, c'è questa nuova traduzione del fatto che magari le persone scrivono meno, ma con il fatto che ci sia questa, non mi piace chiamare la democrazia del mezzo, perché molte volte ci sono problemi da quel punto di vista, però, insomma, trovo che lo strumento del video breve o del prodotto video conciso, di dieci minuti, così, stia molto aiutando ad appassionare le persone a certi temi a cui magari non si approcciavano facilmente. Ecco, sono un grandissimo appassionato di alcuni canali YouTube che seguo molto spesso.